Si infiamma ancora la polemica sull'iniziativa del consigliere regionale Gino Abate che denunciando le carenze all'ospedale Sampio di Benevento ha annunciato una raccolta firme per chiedere al governatore De Luca la rimozione del direttore generale Mario Ferrante. Un'iniziativa su cui il Partito Democratico ha incalzato se Abate fa sul serio nel chiedere la testa di Ferrante allora non può non avere tra i firmatari e sostenitori Mastella nella doppia qualità di sindaco della città e presidente dell'Assemblea Provinciale sulla Sanità. Diversamente quella del consigliere regionale è solo una strumentale cacciara mediatica i cui veri obiettivi sarebbero con ogni evidenza altri. Immediata la replica di Abate da Cacciano solo retropensieri sterili lontani dall'interesse per la salute dei cittadini. Ma il segretario provinciale del Partito Democratico Sannita non si lascia zittire e incalza. Il consigliere Mastelliano Abate elude il quesito politico e tenta di buttarla in rissa e poi chiede la sua iniziativa contro il DG Ferrante. Ha il sostegno e la firma del suo capo Mastella? Sull'argomento però il sindaco nicchia. Io sono istituzionale quindi commentare.